È stata una decisione sollecitata dalla Fossa Cesia, nella figura del Presidente della Società Socialistica, che è una decisione non facile perché la portare via è un pezzo di cuore, però il fatto di tornare qua, di essere al centro del suo paese, delle persone che l'hanno amato e continuano a dimostrare tanto affetto, tanta generosità, per me è stato un motivo importante che mi ha spinto a decidere in questo senso e credo che sia la cosa giusta. Quanta commozione, quanta emozione hai provato? Fino ad oggi tantissima, nei giorni scorsi quando è stato il momento di portare le ceneri, viaggiare, insomma, non è stata facile, però oggi mi sono sentita veramente coccolata, custodita e così è più la gioia che provo oggi, l'orgoglio, il senso di essere onorata, insomma, di tutto quello che io provo, grazie al papà.